Una procedura per risolvere le controversie in tempi brevi e con poco denaro è l'arbitrato uno strumento alternativo all'attività giudiziaria che potrebbe essere molto utile alle imprese ma che è ancora poco utilizzato. Per questo l'Ordine dei Commercialisti di Napoli ha organizzato un convegno sull'argomento a cui ha preso parte Gian Domenico Lepore, presidente della Corte Arbitrale della Camera di Commercio. È una procedura alternativa all'attività giudiziaria che ha i suoi tempi molto lunghi ma soprattutto dobbiamo considerare il fatto che molte questioni di carattere più semplice tra le imprese e soprattutto piccole imprese potrebbero essere risolte dall'abitato in tempi ben precisi e con una spesa che è sicuramente oggi dato alle tariffe che ci sono in materia giudiziaria minori di quelle della giustizia ordinaria. L'arbitrato potrebbe anche essere la soluzione per alleggerire il carico di lavoro della giustizia ordinaria spesso ingolfata dalle troppe cause pendenti. Come spiega Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli. L'arbitrato da sempre è stato un istituto che poteva risolvere le lungaggini della giustizia civile. Ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci. Riteniamo che possa essere sicuramente uno strumento alternativo e risolvere la lentezza della giustizia civile un po' come lo è stata la mediazione. Oggi si affronteranno vari temi su come impostare la Camera arbitrale, come sollecitare soprattutto la cittadinanza a capire e sentire il bisogno di rivolgersi all'arbitrato lasciando perdere spesso le lungaggini dei tribunali.